La Shake Record è una terapia di coppia per il singolo individuo. Solo il singolo sano può formare una coppia sana. Oggi con i nuovi strumenti è possibile raccogliere dati senza che i pazienti se ne accorgano. Tutto questo grazie a un dispositivo inserito all'interno di un semplice braccialetto. Dovresti essere sempre sovvidente. T'ho fatto le lasagne. Vegana. Ma che fa? Ci guardino! Ci guardino? Potremmo andare al cinema? Perché tu sai chi è Picasso? No. Certo che lo so. Che succede adesso? Non è possibile. Sì! La Shrek è una rivoluzione e voglio dimostrare che può essere applicata. Vuoi dormire ancora sul divano? Vede, dottore, io ho capito qual è il mio problema. Sono gli uomini. Tutti. Pensi che ci farà bene tutto questo? Ma la cosa più importante è portare a termine la terapia. Io ho fatto la mia scelta. Adesso tocca a te. Per molti non sarà un bel momento. Vuoi partecipare alla terapia? Esatto. Io ho bisogno di tempo. E che non è facile fare finta di niente. Mi ha consumato la vita, non gliela darò vinta. Adesso ci disinterrompiamo. La Shrek è pericolosa. Non succederà niente. Ridami mia moglie. Che vuoi dire? E allora ci pensi bene. La Shrek ha rovinato molte persone. Shrek, il cartone dell'orco. E cosa dovremmo insegnare? Ad arrendersi? Tu finisci questo. C'è lui. Ma non so di tappo. Almeno stai zitto. Io non ci sto capendo più niente. La terapia non funziona. Dobbiamo parlare. E' finita. Non lo conosci? Ah, quello che diventa verde quando si incazza? No, quello è Hulk.